Ciao a tutti eccoci in questo nuovo video dove finalmente inizieremo la serie dei Miximax e in questa prima parte, primo episodio, faremo il Miximax uno dei principali best match una delle principali combinazioni ideali, cioè quella tra Arion e Victor allora intanto mettiamo Victor nelle riserve, al posto di uno a caso allora ce li ho entrambi al 99, però non allenati, cioè con i parametri allenati potenziati di pochissimo ecco, scegliamo Arion e Victor possiamo scegliere una tecnica, cioè due tecniche di Victor ed ecco che visto che è un best match, c'è una combinazione ideale abbiamo una tecnica nuova, cioè extra che si trova, perché non so se lo sapete, ma in ogni Miximax ideale c'è una tecnica extra, cioè una tecnica in più che si può dare al giocatore che deve fare il Miximax cioè può essere una tecnica di tiro, una tecnica extra, qualsiasi ed ecco che noi possiamo scegliere due tecniche direi Impeto doppio e Zero Magnum facciamo ok e vediamo come... che combinazione viene eccolo qua vediamo un po' infatti visto che è una combinazione ideale il giocatore cambia aspetto completamente invece nei Miximax normali il giocatore cambia di solito solo il colore dei capelli ed ecco qua ora vediamolo in azione un po' ecco il Miximax abbiamo anche uno spirito guerriero possiamo scegliere se dargli Super Pegaso o Lancelot io direi Super Pegaso un po' qui direi che possiamo anche scegliere Zero Magnum o Impeto doppio qui qui vedendo un po' le statistiche potenza 180 e danno stordente 20 per Zero Magnum e 170 di potenza e danno stordente 50 per Impeto doppio ma alla fine ma alla fine diciamo un po' la stessa cosa usiamo Zero Magnum vediamo un po' le statistiche di questo Miximax aumentando 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 cioè come parametri infatti vediamo un po' leggi infatti vediamo che è una cosa incredibile come da 122 di tiro passa a 292 di tiro di... sempre di tiro una cosa incredibile pure l'attacco aumenta di tantissimo è un Miximax veramente forte solo che l'unica cosa è che Victor non si può non lo potremo più usare infatti cliccando non lo possiamo cambiare allora di questo video direi che è tutto per questo video ci vediamo al prossimo episodio dei Miximax ciao a tutti ciao a tutti